Buongiorno e benvenuti a questa era la sedia stampa di oggi, un po' mattutina. La zuppa di porro oggi si occupa di un dato fondamentale, ho voluto anticiparla perché state fermi tutti. È successa una cosa gravissima politicamente, una cosa che ci ricorda il Corriere della Sera in prima pagina, ma anche gli altri giornali con titoli importanti ci fanno capire, data l'importanza della notizia. Allora, fermi tutti, MDP e Pisapia litigano. Ma che ce ne fotte a noi? Io dico che ce ne fotte a noi? Cioè, già dovrebbero scrivere che cos'è la MDP e ci sarebbe speranza che si incontri per Pisapia per mediare sta ceppa. Ma io dico, ragazzi, ma è una cosa pazzesca. Cioè, qui, voglio dire, siamo immersi in una situazione, in un mondo, in tante notizie, magari interessanti. Noi pensiamo di vendere i nostri giornali perché MDP e Pisapia litigano, peraltro, immagino che sia per le elezioni siciliane, cioè una delle regioni dellì che compongono l'Italia e che vandranno alle elezioni il 5 novembre. Allora, per quelle elezioni del 5 novembre noi ci facciamo le pippe sul fatto che MDP e Pisapia litigano. E centinaia di giornalisti che si leggono solo tra di loro, vogliono avere il dettaglio in più per il quale loro riescono a capire le sfumature di Speranza, Bersani, D'Alema, che non parla con Pisapia, quello candida Fava. Non ce ne frega una Fava. Se noi continuiamo... Io non sottovaluto la politica. Penso che sia importante. Penso che è una battuta di Toti rispetto a Berlusconi e Berlusconi rispetto a Tajani. Penso che ovviamente sono persone che ci governano. Ma se pensiamo di fare, porca miseria, i titoli in prima pagina su MDP, litiga con Pisapia, ragazzi, facciamo un pezzo che si leggono, sì e no, 500 persone in Italia. E le voglio vedere! Le voglio mettere in fila, le 500 persone, le voglio vedere con i miei occhi. Voglio vedere le 500 persone che hanno visto questa roba qua. In realtà è quello che conta il titolo. Bisognerebbe fare una pagina di titoli sui giornali per gli addetti ai lavori. Quindi, Pisapia litiga con MDP. Così, insomma, si sa che un segreto è svelato. Mi viene il sangue al cervello quando penso che noi dedichiamo le risorse dei nostri giornalisti, delle persone, dei cronisti a farsi, a raccontare la crisi tra MDP e Pisapia, come potrebbe essere quella, non so, tra Salvini e Zaia. Che sarebbe anche più interessante tra Salvini e Maroni capire che ci sono delle inclinature. Si tratta di un partito del 15-16% con cui qualcuno non può andare d'accordo. Vabbè! Andiamo avanti sulle altre cose che, oltre all'alta tensione, Pisapia... Ah, scusatemi, alta tensione. Alta tensione, giuro. Alta tensione. Allora, a quel punto tu dici, beh, ma questo è il mondo di Cernobbio. È il mondo in cui ci facciamo le pippe su Cernobbio. Quindi ben ci sta che, cioè, se il tema dei giornali è Pisapia e MDP, ben ci sta quello che succede a Cernobbio. Io oggi ho letto una cosa illuminante su Cernobbio. Va bene? Una cosa stupenda. Cernobbio si uniscono tutti quanti i soliti potentoni del mondo. Bravissimo, Brosetti, a organizzare questa cosa. Chapeau! Perché si fa pagare a tutti i giornali che sono lì. Cioè, è riuscito a fare un networking veramente straordinario. Ma quando io leggo Ruggeri, Ruggeri sulla verità, che scrive, sul suo blog, che vi invito a seguire, l'uomo che ha insieme, o io seguo lui, ovviamente, su questa polemica, non fosse altro per l'età, nei confronti delle felpette siliconiane che ci danno la linea, e dice, scrive queste cose. Sapete che io non leggo spesso i pezzi perché non fa parte del nostro DNA, ma questo è scritto talmente bene che non riuscirei a dirlo con parole migliori. Cernobbio ha confermato la sua specificità, essere la Davos italiana, dove per due giorni all'anno si concentra un alto tasso di cialtroneria colta. Senza che i partecipanti possano dirsi cialtroni. Beh, insomma, questa è una clausola di salvezza. Secondo me molti partecipanti sono pure cialtroni ben pagati. Dove? Dove? Se sei un politico, perdi voti. Se sei un imprenditore, perdi credibilità. Se sei un monsignore, perdi la fede. Se sei una persona per bene, non vedi l'ora che finisca. Se sei un giornalista, perdi tempo. Io penso che queste frasi debbano essere messe come quella targa che Dante ha messo quando si entra nell'inferno. Se sei un giornalista, perdi tempo. Tra l'altro, sui giornalisti si diverte moltissimo perché dice un'osservazione in termini di comunicazione e le sue tecniche. Tutti i partecipanti paludati hanno utilizzato processi mentali. Vabbè, questa è una cosa un po' complicata che vi lascio perdere. Comunque molto interessante. Insomma, questa specie di persone che si tengono insieme, che si dicono, ma quanto sia importante, eccetera. Zacchè ci l'aveva raccontato l'altro giorno sul giornale perché poi in questa specie di liturgia i giornalisti che sono invitati là sono invitati a starsene buoni, accucciati in una stanzetta perché ci sono i grandi che parlano. Il problema è che i grandi spesso sono Di Maio, Salvini, in questo caso ne parla Ferruccio di Bortoli sul giornale e i giornalisti sono questi signori attempati di 60 anni che li hanno visti di tutti i colori. Si fanno Cernobbio da 30 anni, forse da quando un po' più di senso l'aveva e dicono, ma pensa tu che dobbiamo fare ancora. Bene, andiamo avanti sulle notizie di giornata. Oggi non è una giornata che ci regala grandi perle. Un'altra di queste notizie riguarda il rispetto dei valori fondanti dell'Italia. Secondo una circolare, le solite circolari decreti di Minniti, che però queste cose le fa, non le annuncia soltanto, nel piano integrazione dell'immigrazione ci dovrebbe essere questo rispetto dei valori fondanti dell'Italia, compreso il rispetto delle donne da parte dei migranti che vogliono venire nel nostro paese. Io dico, per fortuna, meglio tardi che mai. Questo è il primo concetto che si deve fare senza dire, vabbè, di qua, eccetera. Poi però, una volta detta questa cosa, cerchiamo di non affidare il rispetto dei valori fondanti dell'Italia e delle donne ai mediatori culturali, ai soci delle cooperative, alle cooperative di catto comunisti, catto comunisti si può ancora usare, che rispetto ai valori fondanti dell'Italia e anche a quello delle donne, preferiscono i valori fondanti del loro buonismo ecumenico, accogliente dell'universo mondo. Allora, se i valori fondanti dell'Italia vengono dati a quelli che ho visto che partecipano alla mia associazione per l'accoglienza, non ci siamo. I valori fondanti dell'Italia sono, ad esempio, che una donna col burca non può adottare un bambino italiano, di religione cattolica, musulmana, ebrea, quello che volete, ma una donna col burca non fa parte della nostra tradizione e non fa parte di uno dei valori fondanti dell'Italia. Se non diciamo le cose come stanno, i valori fondanti dell'Italia, interpretati dai nostri amici delle cooperative e dei centri sociali, che cacchio sono? Ci sarà un'idea diversa tra me e un cooperatore sociale e un centro sociale sul valore fondante dell'Italia, caro Ministro Milniti? Ecco, forse questo è una di quelle cose su cui dovremmo metterci d'accordo. Detto questo, benvenga almeno la sottolineatura che esistono dei valori fondanti di questo paese e già abbiamo fatto passi avantissimo. Due notizie di economia, perché oggi l'economia forse nel deserto, a parte l'alta tensione tra MDP e Pisapia, che cambierà la storia di questo paese, a parte quell'alta tensione, non quella coreana, quella di Pisapia mi preoccupa, allora, a parte quell'alta tensione, ci sono un po' di cose economiche. Una, la affrontano i grandi giornali, soprattutto nelle pagine di economia, ed è la storia della Pirelli, che è una storia che a me affascina, perché è una grande azienda italiana e che ha un capitale per il 65% dei cinesi. Questi cinesi però, insieme ai soci italiani, rivenderanno, perché quoteranno di nuovo in borsa dopo due anni la Pirelli, il che vorrà dire che i cinesi scenderanno al 45%, gli italiani scenderanno al 10% e il resto sarà quotato in borsa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che i cinesi avranno, non prendiamoci per i fondelli, ancora il manico dell'azienda, ma sia lo statuto, che non si può cambiare se non con il 90% dei voti, sia la sede amministrativa, sia le tecnologie, sia tutto, la Pirelli resta italiana con azionisti cinesi. Questa mi sembra una buona via intelligente di fare le cose, così a naso i giornali, forse solo 24 ore, con Bricco ne parla più diffusamente degli altri. Interpretazione diversa da bicchiere mezzo vuoto la dà Galbiati su Repubblica, sulle questioni che non riguardano la sua famiglia, cioè come tutti noi, ognuno di noi ha una famiglia, io ho quella di Berlusconi al giornale, lui ho quella di De Benedetti alla Repubblica, analizza con forse molta, come possiamo dire, puntualità quello che ha fatto Tronchetti, dicendo, vabbè, col 45% continueranno a comandare i cinesi, e comunque si tratta di un'OPA come quella di Colannino fatta a debito. Peraltro il debito che è stato riversato, questo è vero, sull'acquisto della Pirelli, viene rimesso e ridato ai soci attraverso la quotazione. Cose molto complicate, quello che ci interessa, Pirelli rimane con un DNA a Tillano? Direi di sì. Ha un azionista cinese? Direi di sì. È buono che ci siano dei capitali da fuori che vengano qua e che mantengano qua le aziende? Direi di sì. Ci sono mille esempi di aziende comprate agli stranieri che grazie agli stranieri sono prosperate. San Pellegrino, sfigata fino a ieri, oggi diventato un brand in tutto il mondo. Quindi leggiamo in maniera un po' liberale queste cose. Se si può, Zacchè oggi in maniera che non vi aspettate, sul giornale addirittura con un fondo, ci spiega per quale motivo l'Ape, che non è un aperitivo, ma è la possibilità di andare in pensione preventivamente rispetto a 66,7 anni, l'Ape in realtà, così come è congegnato, è una buona manovra perché permette di andare in pensione prima, ma senza pesare sui soldini di tutti gli altri contribuenti. Insomma, è una giornata che avete capito è caratterizzata e non riesco a pensare e a fare ad altro dalla altissima tensione tra Pisapia e MDP. E con questo io vi saluto e vi dico pensateci all'alta tensione. MDP, Pisapia, tensione altissima.